Di nuovo ben interconnessi ed interconnesse con il nostro sito di riferimento www.stappradio.it Ve lo ricordo ancora una volta www.stappradio.it e i canali di Springer, attenzione, Stefano Tini Stappradio Stefano Tini Stappradio, se volete scrivete solo Stappradio, come stappare la bottiglia, sì signora Maria Luisa Quando mi dice ma che è sto stack? No, Stapp, come stappare? Stacca il pari, rimane lo Stapp, Stappradio E indifferita sul canale Roberto De Angelis RDA Radio e poi su tutte le piattaforme dove ascoltano il nostro segnale E di fatti su Twitter io saluto Maria Luisa che ci ha scritto da Twitter, ci sta ascoltando attraverso Rob De Angelis Saluto tutti coloro che ci stanno ascoltando da Google+, signori io vi chiedo umilmente perdono Ci sono 20 prenotazioni telefoniche, io non lo so se ce la farò a chiamarvi tutti, qualcuno lo accontenteremo Grazie che state intasando la chat privata e riservata di questa è la Roma Potete scrivere anche sulla pagina di Facebook, andate su Roberto De Angelis, che sono io Nei messaggi privati mi lasciate il vostro commento e opinione E se vorrete intervenire a questa è la Roma in questa puntata e le puntate successive Cortesemente il vostro nome di battesimo e un numero telefonico, un cellulare, un qualcosa dove noi vi potremo ricontattare Saluto anche Daniela, Daniela non facciamo le dirette Quindi noi richiamiamo, basta che voi sulla messaggistica privata del canale di Facebook Roberto De Angelis Lasciate il vostro nome e un numero di cellulare, un numero di telefono Non noi vi richiameremo, le dirette è impronta, non le facciamo per tanti e tanti motivi di ovvia ragione Torniamo al programma e io vado a ringraziare sempre Valcor, calzature, borsa, abbigliamento e accessori In via di Torzapienza 35 ABC Il telefono è lo 06 22 84 544 Dal 1948, Classic Fashion e Outlet Allora veniamo a noi, saluto anche Luigi Che dice di seguire me e qualcun altro che tra un po' sarà in onda Anche per quanto riguarda Minuto 91 Minuto 91 ricorda 91esimo minuto Sì Luigi è il novantunesimo minuto in radio Solo che per motivi di copyright chiaramente l'abbiamo dovuto chiamare Minuto 91 Tutto qui il discorso Poi chiaramente sull'altro canale sono rubriche Extra Time Sono rubriche che faremo naturalmente con un certo criterio Però Minuto 91 è il novantunesimo minuto Abbiamo chiarito anche l'Arcano Non chiariamo invece l'Arcano perché è una certezza Le italiane in coppa e via discorrendo Ne parliamo sempre con l'amico Norberto Nicolai Buonasera a te Norberto come stai? Buonasera a te Roberto e buonasera a tutti i nostri ascoltatori Presenti e in registrazione Che ci sentiranno in registrazione Sto abbastanza bene anche se ho il naso un po' pieno Diciamo così E' un mezzo raffreddore Ecco siamo mezzo raffreddore Ma lei alla sua età veneranda di 97 anni va sempre allo stadio Non è quella che mercoledì per festeggiare il compagno di mia moglie Siamo andati a cena fuori Poi siamo andati al locale di un mio amico Ho ballato Ho bevuto un paio di scotch Ha sudato e lì è rimasto fregato Poi giovedì sembrava tutto a posto E la sera il naso così Va bene Esatto e questo era diciamo il pizzico di folklore umano Invece venendo al calcio Oggi tutti i giornali titolano all'unisono Riscossa del calcio italiano Perché tra Coppa dei Campioni e Coppa UEFA Non abbiamo avuto nessuna sconfitta C'è solo un pareggio e il resto sono tutte vittorie Possiamo già cominciare a rialzare la testa O è troppo presto secondo te? No, prima di rialzare la testa bisogna vedere Se ti ricordi quando facemmo il commento sulla Juventus Che dalla Central League cadde Si fa per dire in Europa League E poi fu eliminata La partita che Mancini aveva chiesto di rinviare Ricordiamoci l'allenatore all'epoca della squadra turca se non sbaglio Invece la Juventus la vuole giocare E poi si sono lamentati Ha il terreno Ma si giocava sempre Ti ricordi quante partite abbiamo visto allo stadio Con il fango fino alle ginocchia? Come no, come no Precisamente perché la Juve perse A noi non è che ci dispiace quando perde la Juve No? Sì Diciamo che in questo ambito dobbiamo rimanere Il più neutrali possibile Se fosse possibile Sì, sì, va bene Insomma, in generale Ecco E allora io dissi Attenzione Una squadra per essere attrezzata Per fare le coppe Poi arriva fino al limite Che può In cui può arrivare Può essere fortunata Sfortunata Come quello italiano E poi se giochi Che ne so In Svizzera Potrebbe pure bastare Perché non ti si infortunano In campionato La Juventus ha avuto Una grossa Un grosso handicap Con una rossa A corte E non a altezza Quest'anno Si è migliorata La Roma Ha la rossa più larga Qualcuno diceva No, basta La Roma 25 giocatori Sono troppi gli altri No, no, no Io sono quello Da 30 giocatori Anzi Se c'è Tentunesimo Anche meglio La Roma Mi sembra attrezzata Per avere Non le riserve Non chiamiamole riserve I giocatori Quasi a livello Delle prime scelte Mi piace Le prime scelte Sì, sì Ecco Delle prime scelte E da sotto Questo punto di vista Mi sembra La Roma La squadra più attrezzata Tra le italiane E non credo Che il Torino Faccia una grande strada Perché Sai Nessuno dice L'uva in marcia Perché non ci arriva A mangiarla Ma io dico Che Quagliarella Può fare Quello che entra A un quarto d'ora Dalla fine Il titolare Pensando che ti faccia 20 gol 25 gol Non è possibile A Mauri È uno che Li vede fare Quando si mette Seduto davanti Al televisore In poltrona Magari c'è Il televisore Da 40 pollici Ma povero Mauri Ma perché me lo distruggi così No ma non lo distruggo Non è È uno che lotta Si dà da fare Per carità Non l'ho mai visto Tirare indietro Il piede E mai Non impegnarsi Ma è uno che Fai gol Con il contagucci 10-11 Non ti basta A livello europeo Non vai da nessuna parte E qua hanno incontrato Una squadra Insomma Non mi è sembrata Che forse Mi dava pure Qualche cosilla di più La Roma ha fatto Un'ottima partita E Poteva fare Qualche gol in più La Roma Poteva fare Qualche gol in più La squadra russa E forse c'era il gol Che era regolare Quello che ha preso La traversa Il russo E quello non è stato visto Purtroppo Sai Non è 5-1 5-2 Cambia poco Potevano fare 5-3 E la Roma Poteva fare 7-3 Perciò ecco Diciamo che il risultato È giusto Adesso si tratterà Di amministrarlo In Mosca Norberto Ti chiedo scusa Ma non ti vedo Così entusiasta Sulle squadre italiane Mi stai dando La Roma Mi ha fatto Una buona impressione Perché ha giocato Tranquilla e decisa La Roma Ha uno dei gironi Più difficoltosi Sulla carta E attenzione Noi parliamo sempre Sulla carta Visto il nome Delle avversarie E doveva affrontare Questa prima partita Tranquilla Senza avere L'affanno Di dover vincere Perché altrimenti Poi perdiamo hanno giocato tranquilli con ardore, con spinta io la partita l'ho vista registrata perché stavo fuori a cena fuori con mia moglie la stavo festeggiando me la sono vista registrata e posso dire che ha fatto un'ottima partita come ripeto, il gol in più o meno loro ne potevano fare due loro compreso quello non dato ne poteva fare due o tre la Roma in più l'hanno vista con gli occhi miei voi pure l'avete vista perciò poteva finire 7 a 3 e cambiava poco la Juventus ha fatto il suo ragazzi stava a giocare con quelli se non vinceva tranquillamente però aspetta Norberto però ha vinto all'ultimo scorcio nell'ultimo scorcio sono maturati due gol non è che ha messo subito in cantiere il risultato della partita anche perché probabilmente per certe squadre inferiori come può essere sempre sulla carta noi vogliamo sempre fare sulla carta e poi non è detto perché magari un calciatore che non si conosce bene di nome lo vedi giurare e fa però e uno fa però ecco come ho sentito poi mi hanno telefonato che nominavate un giocatore della Roma che sembra che siano sconosciuto invece uno buono oddio com'è il nome l'avete detto prima? è straniero no? si 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 viene dal campionato francese per volontà di Rudy Garcia si ecco allora io dico nessuno lo conosce però mi è sembrato un ottimo calciatore o sbaglio? no no assolutamente perché giocato in Francia non è buono per me si il campionato francese è interessante come interessante il campionato spagnolo dove tutti giocano per vincere preferiscono perdere 4 a 2 che perdere 1 a 0 facendo la difesa Norberto ma a proposito la Roma sta tranquilla la Juventus ha vinto agli ultimi minuti però mi sembra anche lei potrebbe superare il girone la Roma se la giocherà la prossima partita è decisiva per il secondo posto o per il primo addirittura vediamo come si mettono le cose io per il secondo ho un amico dentista che ogni tanto vado a fare il controllo siccome gli i dentisti hanno il trapano neanche volendo potrei parlare male della Roma da parte di scherzi io non parlo male di nessuno faccio delle analisi e sono convinto che la Roma potrebbe parlando con lui diciamo arriviamo in semifinale amico mio io te lo auguro mi inviterai a casa tua a cena ci vediamo una partita insieme che te devo dire sono contento per gli amici ci ho parecchi alcuni amici però per quanto riguarda il girone aver vinto adesso 5 a 1 con un più 4 potrebbe essere una bellissima differenza reti che se ti devi piazzare al secondo post lì si passerà per differenza reti la Roma ha messo una serie di ipoteca chiaramente bisogna andare avanti sta tranquilla che chiaramente deve un attimino non pensare meno al campionato ma se deve scegliere fra un titolare che è un po' stanco e deve giocare una partita in campionato e poi c'è la coppa io lo faccio giocare in coppa perché la coppa è importantissima il campionato puoi sempre recuperare è lungo specialmente quando c'è il girone che nei primi due poi il terzo va in Europa League poi diventa un'ammucchiata tremenda in Europa League non è detto che la Roma debba passare con differenza a gol vabbè la prossima partita è Manchester City Roma e la Juventus andrà a Madrid se non vado a guardare contro l'Atletico Madrid per cui saranno due partite di coppa dei campioni non di facile appannaggio come le prime lì ci sarà da lottare il Manchester in questo momento non mi sembra al massimo della forma sai poi dipende e tu hai i soldi devi anche spendere un modo avete visto giocare il Chelsea anzi il Dina Cossa Chelsea Dino Costa Chelsea più gli avversari avete visto che cos'è Dino Costa quello che c'è la Juventus come no quello le vince da solo lo metti in qualunquanza squadra ti dà 15 punti da solo da solo capito ecco perciò il Manchester City l'ho visto anche il campionato inglese la vecchia abitudine di quando stavamo al novantesimo minuto ti ricordi? novantunesimo minuto novantunesimo minuto in televisione che vedevo anche tutti i campionati quelli che ci facevano vedere le varie televisioni seguo il Manchester il Chelsea insomma quelle che ho il tempo di vedere non mi è sembrata molto molto in forma poi da qui a quando gioco a proposito di campionati esteri visti che te li segui tutti beato te il campionato che ti sta più entusiasmando in Europa qual è? Inghilterra Germania Spagna o Francia? no no Inghilterra Inghilterra prima addirittura della Germania? sì sì perché la Germania faccio il tifo per quella che arriva sempre seconda è Borussia è un po' antipatico ma non c'è un motivo particolare è un'antipatia così se tu prendi qualunque partita di campionato inglese gioca che ne so il Manchester United il Chelsea contro una squadra debole sulla carta sì gli altri giocano per fare più gol del Chelsea capito? che poi magari vince 6 a 2 ma intanto loro hanno fatto 2 gol e se ne sono mangiati 3 la differenza la fanno i giocatori di classe poi alla lunga se stanno bene vince sempre quello che ha più i piedi buoni però per me è quello più entusiasmante anche se quello francese non è male quello francese non è male quello spagnolo che strazio non lo so io non sono un barcellonese non mi piace il Barcellona mi è mai piaciuto non faccio il tipo del Barcellona Real Madrid sta un po' così chi fa andare via Di Maria e quell'altro è l'attaccante giovane che ha preso la Juventus l'avete visto quei pochi minuti che ha giocato chi è quel ragazzo? Morata parliamo? eh l'avete visto come gioca? come no? eh signori vabbè è entrato fresco gli ultimi minuti però intanto si vede che uno che diventerà la grande la Juventus ha fatto un bel colpo perché quello altro che 21 milioni di euro vale molto di più varrà varrà quindi uno dei più forti in circolazione sei sicuro che sfonderà e se ne parlerà molto molto a lungo? sì 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 oh quindi allora non sei convinto? no vabbè aspettiamo un attimo non ho capito non è intervenuto nessun ascoltatore per dire la sua su questo se l'ha visto giocare? no per il momento ci sono dei messaggi di altro tenore che sto evitando perché ehm ho già precisato dall'inizio di questa trasmissione attenzione la trasmissione madre rimane sempre questa è la Roma su stappradio.it da quest'anno però abbiamo deciso di mettere delle rubriche esterne che parlano di altri campionati di Europa o di altri campionati di altri continenti Norberto se volessi affrontare che ne so il campionato argentino è libero di farlo ci mancherebbe altro sì e non lo fanno più vedere esatto aspetta ecco è vero è vero allora e questo per quanto riguarda il calcio per quanto riguarda l'attualità anziché miscelare l'ospite tra calcio e realtà che poi la trasmissione di Norberto qui su stappradio.it c'è la rubrica ecce Roma dove sentiremo Alessio Papi dove sentiremo lo stesso Nicolai se avrà qualche argomento da dover discernere e tanti altri opinionisti perché sì sì perché perché attenzione esatto perché così facendo manteniamo il calcio giallorosso il calcio e lo sport in generale e l'attualità perché siamo tifosi ognuno della propria squadra ci mancherebbe altro però siamo anche cittadini d'Italia e del mondo e le cose le vediamo e un cervello per ragionare dico io ce l'abbiamo sempre qui invece ci vogliono derubare anche del nostro della nostra mente del nostro cervello però qui entriamo in un altro campo non possiamo affrontarlo quindi rispondo a questi esatto no no ma rispondo ecco esatto però rispondo rispondo a certi buontemponi che seguono un altro canale web che qui c'è ampia libertà di parola di veduta di commento quindi non accettiamo nessun tipo di censura poi qui c'è una redazione che si mette a tavolino stefanotini direttore io vice direttore insieme con tutti voi che operate nel mondo della web radio portate le vostre trasmissioni si tenta di tracciare una linea di conduzione e attenzione come quando per le scelte musicali si programmano dischi di musica che non ci piacciono magari attenzione che magari certe musiche che mettiamo magari personalmente non ci piacciono ma per dovere editoriale dobbiamo farlo così anche qui commentiamo cerchiamo di analizzare neutralmente tante situazioni sportive calcistiche quindi diciamo gli opinionisti romanisti parleranno della loro Roma gli opinionisti sportivi parleranno del calcio in generale gli opinionisti sociali parleranno dell'attualità e non interessa badate bene non interessa assolutamente se chi parla è di centro di destra o di sinistra ammesso che non concesso che nel 2014 centro, destra e sinistra abbiano ancora un significato perché sinceramente siamo tutti a valori zero esatto e come tu ben ricorderai nelle mie trasmissioni nella mia trasmissione ha intervenuto quello di rifondazione comunista e quello vicino a casa Pound a me non mi interessa se devono parlare di argomenti interessanti io lì intervisto li faccio parlare e attenzione non entro in dibattito perché non è ho mi sono assunto un altro compito faccio come si chiama tu che lo pronunci meglio di me il moderatore no come Roberto Mercurio ha inventato il vocabolo mi ha detto Lancormen 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 si radiofonico ecco allora dico se c'è un argomento interessante e parla quello di fondazione comunista dice la sua tranquillo e beato poi arriva quello del BDL o dell'XBDL quello del molto più insomma quello che è Forza Italia nel CD e dice la sua arriva il democrazio nostalgico della democrazia che si è la parla e dice quello che anche perché e qui porto i nostri ascoltatori gli diamo ancora se non si sono sintonizzati sulla la 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 missione registrata stiamo ricominciando a parlare di moda ragazzi oh finalmente qualcosa pure di leggero no perciò seguiteci seguiteci ecco ed è giusto allora che tu che programmi fra calcio in realtà hai gli argomenti più estesi noi qui durante il venerdì diamo dei flash di attualità di sociale di qualsiasi altro avvenimento che riteniamo interessante e rilevante per cui non c'entra nulla il discorso del colore e della fede politica assolutamente nulla siete fuori tema extra time la chiamiamo esatto velocissimo abbiamo due minuti Norberto ha vinto ma non mi ha convinto mi piace che cosa quale squadra ha vinto e non t'ha convinto no 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 ha avuto qualche occasione da golle ma quello è stato molto episodico e fortunato il Torino non è andato da nessuna parte secondo me povero Torino mannaggia che devo fare stiamo scherzando e il Torino secondo me non è andata a nessuna parte perché mi sembra anzi una delle squadre candidata della serie B del campionato nostro mamma mia come se fu un aereo non è colpa mia andiamo avanti chiudiamo Norberto andiamo verso la conclusione 19 milioni 19 no di più di più sembra 19 però vabbè 19 milioni ti spendi meglio e se vedi che non c'ha so problemi non mi dispiace per il Torino in generale perché è sempre la squadra Napoli e Fiorentina Norberto Veloce Napoli e Fiorentina Napoli anche lui non mi ha convinto molto è una squadra che è un po' una zecca garbugli non mi ispira pure lì ha fatto una fenomenata il singolo Mertens perché poi se lo sono guardato se fai una cosa del genere a un difensore di quelli buoni italiani che giocano il campionato italiano non italiani giocano il campionato italiano di quelli seri lì il tag entrava sul pallone e Mertens non segnava la Fiorentina vince con chi gli pare con chi perde con chi vince e Quadraro non gli può sempre risolvere le situazioni perché sai se quando capiranno che Quadraro è uno che se gli dai lo spazio gli fa il gol e poi non lo devi toccare perché si butta per terra rodolandosi per 10-12 minuti di seguito finché non fa cacciare gli avversari anzi ti mena lui e fa cacciare gli altri quando capiranno il momento Fiorentina non arriverà in campionato neanche fra le prime 5 in Europa League adesso vediamo il girone bene che succede le prossime partite ma non è insomma oggi Norberto ci ha debellato Fiorentina Napoli e Torino va bene così ok io guarda sono più convinto di Juventus e Roma e di queste altre tre questo anche no no torniamo seri questo esatto sì 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 questo anche noi per quanto riguarda le italiane siamo convinte di Roma e Juventus una spanna in più rispetto a tutte le altre però esatto però in extra time noi speriamo che le nostre italiane in Coppa possano andare il più lontano possibile perché ricordiamoci sempre tutti sì uno c'è il campanilismo quelli devono venire il tifo il coso vai 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 da qua vai da là giù più squadre vanno avanti e più come si chiama in inglese il ranking europeo aumenta il quotiente italiano bravo e potremmo ritornare prima o poi avere le quattro squadre esatto visto che la quarta fa i preliminari esatto poi se fa la fine del Napoli come terza non lo so ma insomma senti ultima ultimissima Norberto Norberto devo correre ascolta l'ultimissima domanda mi devi rispondere in 40 secondi dopodiché vado a sfumare però purtroppo è Roberto Mancini il nuovo allenatore del Napoli scusate prego Roberto Mancini sarà il nuovo allenatore del Napoli tra qualche settimana ma voi pensate l'avanzo si ritira fuori 6-7 milioni di ingaggio a meno che non si riduca gli spalmi come si dice no? gli spalmi siamo arrivati alla Nutella ormai sì certo io mi vien da ridere perché una delle più brutte interne nella storia di questi ultimi 15 anni è quella che c'aveva Benitez te lo ricordi anche tu no? sì in carità ecco e allora non mi sembra questo ogni tanto a Zecca una mezza stagione fortunata c'ha una squadra che potremmo allenare io, te e altri 100 ascoltatori signori che poi certe squadre ti allenano da sole è come se dirigi i Viener Firmoyer o i Berliner quelli sono da sole gli fai allora punti via e attaccano a pezzo e suonano senza direttore ma quelli certe squadre che poi Benitez sia questo grandissimo allenatore no in Inghilterra sì però ma vabbè anche lì vabbè aspetta la domanda è questa arriva Roberto Mancini o no? allenatore della Roma che adesso sta allena il Barcelluna eh senti un po' ma Roberto Mancini arriverà o no? io penso di sì tu pensi di sì quindi lo annotiamo perché abbiamo strani rumors che provengono dalla città di Napoli per cui staremo adesso a vedere Norberto io ti ringrazio del tuo prezioso intervento per l'italiana in coppia in Extra Time di questa la Roma ci risentiamo venerdì prossimo e mi raccomando giovedì dal più giorno al più vecchio tutti orecchi all'apparecchio perché fra calcio e realtà porterà avanti molte eh tematiche importanti e fondamentali se riuscirà a intervistare il generale sui Marò fallo ardentemente perché vogliamo conoscere settimana ero occupatissimo ma vorrei non dico niente non anticipo ma forse ci sarà una bella sorpresa forse ecco mi metterò in moto non nel weekend ma da lunedì mi metterò in moto per fare una sorpresa a tutti quelli che seguono fra calcio e realtà e la nostra radio d'accordo allora arrivederci a tutti a tutti buon weekend speriamo che non sia caldo e assolato qui a Roma c'è un'immunità che ci sta stoncando e allora viva gli italiani in coppa ok grazie buon fine settimana saluta Patrizia ciao Norberto ciao Roberto ciao grazie ciao ciao e io Norberto lo lascerei parlare però i tempi poi non ci siamo dobbiamo chiamare ancora tantissime altre persone sia di questa è la Roma sia di Extra Time per cui signori un attimo di pazienza noi ci risentiremo fra qualche istante questa è la Roma torneremo in argomento principale ed Extra Extra Time c'è anche l'oroscopo della settimana per chi vuole ascoltarlo è già registrato su stappradio.it grazie tra qualche istante col prossimo collegamento grazie a tutti i nostri spettatori